Io sono Gianna del Centro Donalisa, di cui fa parte anche Daniela e quindi noi abbiamo avuto tra noi, non è per il citare, ma molte cene, Roberto a condividere iniziative, lotte, eccetera. E quindi, come dire, anche noi abbiamo pensato di unire la nostra voce del Centro Donalisa a quelle di molti altri che hanno già parlato e che parleranno ancora. Scusate se io scrivo, sono anzi scusata che di solito vado a braccio, ma temo l'emozione e quindi la difficoltà di pensare e poter dire quello che avevamo come Centro Donalisa in mente. Allora, stamani mi sono trovata a pensare a questo incontro, a Roberto e a noi, tutti noi che siamo qua, tutte noi donne e uomini, che oggi lo vogliamo proprio ricordare. Avevo letto quello che mi è arrivato stamani, cioè un asciutto, ma anche completo testo che Sinistro Anticapitalista ha messo in rete. E ad un certo punto io mi sono invece chiesta, se Roberto fosse qui ora, che cosa ci direbbe? Come è stato già detto con molte parole, Roberto era questa persona gentile, attenta e disponibile. Era un intellettuale, come si dice, collettivo oppure organico, di una classe alla quale lui apparteneva e che aveva scelto le due cose insieme. Una classe che oggi noi vediamo smembrata, nascosta dal potere e dai media, composta da un variegato aggregato di figure sociali, operaie e operai, precarie e precari, disoccupate e disoccupati, cetimedi in rapido declino, pensionate e pensionati che non riescono a finire il mese, soggetti sempre più emarginati, donne e uomini, una società, insomma un totale di gente, una società che vuole costruire un presente, ma anche e soprattutto un futuro. E allora ho pensato, ed è stato citato poco fa, ho pensato a Gramsci, alle sue lettere dal carcere, ai suoi ragionamenti politici, ai suoi spunti di letteratura che ha guidato molte persone addirittura al liceo, alle tenere lettere che lui scriveva a sua moglie e alle sue figlie e ai racconti che lui ha voluto scrivere per le sue figlie. Così anche Roberto, negli ultimi due anni, ha vissuto in carcere, prigioniero di una malattia feroce e ha ciononostante continuati i suoi ragionamenti politici, come abbiamo sentito, il suo lavoro intellettuale, il suo lavoro politico, la sua condivisione di vita affettiva. Una vita affettiva pubblica, e le parole che abbiamo sentito ce lo confermano, fatta di relazione con le compagnie e i compagni, ma soprattutto una vita privata che ha continuato a condurre con intelligenza e con amore e ad occhi aperti. Dicevo che mi sono chiesta cosa direbbe Roberto se fosse qui. Ecco, io penso che parlerebbe di futuro. Parlerebbe del futuro di Daniela e di quello di Ginevra. Le vorrebbe vedere serene, costruire una vita sensata e condivisa. Le vorrebbe attente alle altre e agli altri, capace di godere della vita e della relazione con gli altri e le altre. Ci parlerebbe sicuramente di politica, di come costruire o come ricostruire questa sgangherata sinistra, di come smascherare un potere insieme solido e liquido, potente e sfucente, portato avanti dai vari Renzi per non dire di peggio. Ci direbbe di leggere, studiare e discutere di come resistere, di come organizzare le lotte in una stagione dura e difficile, come quella che in questo momento stiamo vivendo. Ci direbbe. Ci direbbe. Ecco, allora io penso che insieme, da oggi, possiamo provarlo a dire noi insieme. Daniela e Ginevra, suo fratello e i suoi parenti. Noi che siamo qui, donne e uomini, compagne e compagni, a noi che oggi siamo tristi e sconsolati, perché la vita continua e Roberto lo sapeva. Vive Roberto. Grazie. Grazie. Grazie.